Il completamento della pista ciclopedonale che collega Borgo Tulliera a Fenza comporterà un nuovo problema di sicurezza stradale lungo la Modiglianese. Nel tratto della ciclopedonale di Accento il Ponte Rosso, infatti, i ciclisti e i pedoni saranno chiamati ad attraversare la Modiglianese nel tratto che prende il nome di via Don Giovanni Verità e poi dovranno attraversare via San Martino. Secondo il comune di Fenza, oggi l'incrocio ha raggiunto il suo bilanciamento ottimale. Nell'autunno dello scorso anno, il semaforo del Ponte Rosso venne spostato prima della accampata dopo che l'analisi ricordante l'infrastruttura aveva evidenziato la necessità di lavori di consolidamento, lavori assegnati proprio in questi giorni. Per non andare ad influire quindi sul bilanciamento dell'incrocio e di evitare di produrre lunghe coda al traffico, il semaforo che regola l'intersezione non verrà ulteriormente spostato e non ne verrà installato un secondo, come chiesto da alcuni utenti della pista ciclopedonale. Per segnalare l'attraversamento in via Don Giovanni Verità da parte degli utenti della ciclopedonale, verranno quindi installate delle luci LED intermittenti che si attiveranno con l'arrivo di ciclisti e pedoni in prossimità dell'attraversamento, evidenziando il passaggio ai veicoli in transito. Verrà poi installata la segnaletica orizzontale necessaria per mettere in risalto l'attraversamento. All'incrocio con via San Martino invece verrà installato un semaforo che regolerà l'immissione dei veicoli su via Don Giovanni Verità. Sarà un semaforo a pedana con un sensore e si attiverà quando saranno presenti i veicoli che da via San Martino dovranno svoltare in via Don Giovanni Verità. Contemporaneamente il semaforo regolerà anche l'attraversamento degli utenti della ciclopedonale e il passaggio dalla pista per Borgo Tuliero alla passarella del Ponte Rosso e viceversa. Non subirà invece nessuna modifica all'incrocio in via Renaccio. Spostandosi verso il centro città all'incrocio fra via Ballardini e via Mezzarisa, la nuova rotonda ha previsto un attraversamento pedonale protetto per permettere il collegamento fra la vecchia ciclo pedonale di via Mezzarisa e la nuova ciclabile di via Argnani che consente di arrivare in sicurezza in via Lapi.